Il nostro corso di Digital Painting vi insegnerà come dipingere digitalmente con l'impiego di software specializzati e di strumenti professionali, quali le tavolette grafiche e i display interattivi. Con il corso apprenderete com'è possibile miscelare le tecniche di disegno tradizionale a quelle più moderne, con l'impiego di software specializzati per il disegno e di manipolazione per le immagini. Alla fine di un percorso pensato per conoscere questi software, personalizzarli e renderli vostri alleati, conoscere del tutto ciò che è necessario per la creazione delle illustrazioni a colore completa, ben strutturata e bella da vedere.